A durata fulminante! A durata istantanea! Muovetevi, sminollati! In riga! In riga! Salve chi va a muoci! In riga! Colomelo! Che succede? Hanno rubato la bamboletta! L'hanno rubata? Chi? Non lo so! Che è stato? Non lo faremo presto! A costo di rivolcare tutta la scuola! Forza! Muovetevi! Corra! Aspettatevi a corte! Al posto! Presto ragazzi! Corriamo sul piazzale! Ma chi ci sta ancora là dentro? C'è Arvaro! Dai! Vieni fuori! Sbrigati! Non posso! Lascia quella bambola e vieni fuori! Sennò qui siamo tutti fregati! Sono rimasto appicciacato! Dai! Forza! Dai! Pezzo di stronzo! Al posto della vasellina! Ci hai messo il mastice! Ma... Mo ci penso io! No! Che fai? Fermo! No! Non lo fa! No! Dai! Oh! Oh no! No! Sbrigatemi! Su! Via! Avanti! Andiamo! Presto! Presto! Su! Via! Ripongo! Attenti! Reparto schierato al signor Colondano! Cractero! Calori! Di vero! Capi! Capi! Amp! Patemi! Chi? Capi! Ah! 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 E' l'accinda! E' l'accinda!